Il risultato di oggi 12 e siamo nella parte bassa della Brasilia, quindi come facciamo ad essere noi avversari del Monza? Il campionato è più bello di quello che io mi aspettassi. Il Monza è una squadra forte, gioca un bel calcio, ha elementi di qualità, ma come noi, il resto, e come altre squadre, Pordenone, Fialpi, in questo tirone si gioca un bel calcio e ci sono tante belle squadre, quindi si può vincere e perdere contro chi non è. Sei soddisfatto naturalmente della prestazione dei club di oggi? Sono soddisfatto perché mancano 4 centrocampisti e quindi in questo momento siamo un po' in emergenza. Sono soddisfatto perché abbiamo giocato da squadra, pur essendo un gruppo di uomini, 20 giocatori nuovi, tutti in una volta, e poi venuti un po' alla spicciolata. e quindi un tipo di prestazione di questo genere, con la capacità di soffrire come squadra per aggirare l'avversario e poi, allo stesso modo, come squadra vi proporsi per cercare di vincere la partita che è un atteggiamento che mi fa mescolare il futuro, vuol dire che questa è la strada fracciata che va seguita. Grazie.